Musica Ben trovato a un nuovo appuntamento con l'informazione di Unica TV, edizione di Monza. Noi purtroppo apriamo con la cronaca, con il tragico incidente avvenuto sul ramo lecchese dell'Ario, ha perso la vita un 64enne Brianzolo, la sua moto si è scontrata contro un'auto e sono gravissime le condizioni della compagna che viaggiava con lui. Il nuovo arresto per spaccio in una via centrale di Monza, nei pressi della stazione, è stato fermato un 28enne gambiano richiedente asilo. Aveva contanti e hashish, oltre a precedenti, per droga. I sindaci Brianzoli, in questa edizione un servizio anche dedicato all'incontro tra i sindaci Brianzoli e l'arcivescovo Mario Delpini, che tra i temi sollevati ha parlato di giovani, di disagio giovanile, e il suo messaggio è stato coinvolgete i ragazzi nell'amministrazione comunale. Vediamo i servizi. Ancora un incidente mortale lungo la provinciale 72 che costeggia il ramo lecchese del lago di Como, lo scontro nel pomeriggio di domenica all'altezza della frazione di Fiume Latte a Varenna. La vittima è un centauro di 64 anni, Francesco Panighi, residente a Camparada, in provincia di Monza Brianza. Gravissima la compagna sessantenne che viaggiava sul selino posteriore della motocicletta. Per cause in corso di accertamento la moto si è scontrata con un'auto. Subito dopo l'impatto si è incendiata, senza scampo all'uomo, avvolto dalle fiamme, mentre la donna, sbalzata da alcuni metri di distanza, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Varese e è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni sono molto critiche. Sul posto è volontaria del soccorso bellanese, insieme ai vigili del fuoco e ai sanitari di Areo, che si sono calati in strada direttamente dall'elicottero con il verricello, ferite ma non in pericolo di vita le due persone a bordo della vettura. La provinciale è rimasta a lungo chiusa. L'ennesimo incidente in quel punto ancora una volta ci fa capire l'emergenza di creare una rotatoria nel tratto che porta alla frazione di Pino, come più volte chiesto dall'amministrazione comunale, dice il sindaco di Varenna Mauro Manzoni. Il comune si è impegnato per disporre il progetto per la realizzazione di questa importante opera pubblica, ma sicuramente sarà imprescindibile l'apporto economico, oltre che tecnico, da parte della provincia a cui appartiene la strada. La rotatoria avrà così una doppia valenza e utilità a rendere più sicura per i residenti nella frazione di Pino l'immissione sulla provinciale 72 e fungere da dissuasore di velocità per i veicoli che la percorrono. Abbiamo avuto già diversi incontri con l'amministrazione, l'interlocazione in corso. Precisa il consigliere provinciale con delega la viabilità, Mattia Micheli, la progettazione non è semplice perché per ricavare gli spazi necessari per la rotonda sarebbe necessario realizzare una soletta lago con l'autorizzazione della sovrintendenza. Una volta definito il progetto si aprirà il capitolo dei fondi. Arrestato in flagranza Pespaccio in centro a Monza un giovane richiedente asilo. Nella tasca dei pantaloni aveva 32 grammi di hashish e una mazzetta. A insospettire la polizia è stato il suo fare circospetto. Quando ha notato una volante in Corso Milano ha iniziato a guardarsi intorno e ha allungato il passo. Gli agenti allora lo hanno fermato e identificato. Si tratta di un 28enne gambiano. Dalla banca dati è emerso che su di lui pendevano già precedenti inerenti a sostanze stupefacenti. Gli agenti lo hanno perquisito trovando tre involucri in celofan contenenti una sostanza brunastra. Non solo, anche 120 euro in pezzi da 5, 10, 20 e 50. Il 28enne è stato portato in questura in attesa dell'esito dell'analisi della sostanza. Il narcotest della polizia scientifica è risultato positivo, si trattava di hashish, 32 grammi. Il richiedente asilo è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di sostanza stupefacente e spaccio. Ora si trova nelle camere di sicurezza della questura in attesa del processo per direttissima, sotto sequestro penale, la droga e il denaro contante. L'uomo aveva presentato alla commissione territoriale per i rifugiati una richiesta d'asilo ed era in attesa dell'esito. Il questore della provincia di Monza, Marco Dorisio, ha attivato l'ufficio in migrazione per rigettarla. Dopo l'udienza, il gambiano sarà condotto presso un centro per il rimpatrio. E torniamo in studio per una notizia di cronaca. Dormiva, ubriaco, accasciato sul volante in un'auto in mezzo alla strada. Un passante ha pensato ad un malore. L'ambulanza interviene pensando di salvargli la vita, invece parte la denuncia per guida in stato di ebrezza. È accaduto ieri notte a Seregno. Sogni non proprio d'oro per un 38enne peruviano residente nel torinese che intorno a mezzanotte e mezza è stato visto apparentemente privo di sensi su una Renault Megane sulla carreggiata in via Fratelli Bandiera. A svegliarlo sono stati i carabinieri della compagnia locale. Tra le gambe aveva una bottiglia di birra e sosteneva di trovarsi a bordo di un furgone. I militari lo hanno fatto scendere dall'auto e lo hanno invitato a sottoporsi all'alcol test. L'uomo che faceva fatica a reggersi in piedi si è rifiutato. I carabinieri lo hanno denunciato all'autorità giudiziaria per guida in stato di ebrezza. E prima di tornare ai servizi un'altra notizia. La polizia provinciale di Monza e Brianza ha sequestrato materiale elettrico ed elettronico in un grande punto vendita di Seregno. Su alcuni prodotti la marcatura della comunità europea era assente, su altri era contraffatta. Il titolare è stato denunciato per frode in commercio e per lui anche una sanzione amministrativa di 800 euro. Vediamo ora gli altri servizi. Necessità di comprendere le difficoltà del presente e l'inquietudine di questi tempi, ricordarsi della gratificazione della fiducia ricevuta dai concittadini e della responsabilità di rappresentare una comunità, ma anche l'importanza di affrontare il disagio giovanile, valorizzando i ragazzi per favorirne la partecipazione. Sono stati tanti i temi affrontati nell'incontro avvenuto nella sede della provincia di Monza tra l'arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, e i sindaci in rappresentanza dei comuni della zona pastorale Quinta. Un momento sempre sentito per i primi cittadini brianzoli, con sette rappresentanti di questi che hanno raccontato la bellezza, ma anche le tante difficoltà che si incontrano quando si amministra, chiedendo suggerimenti all'arcivescovo su come affrontare, con umanità, alcune di queste sfide così delicate. Di questa mattinata rimane sempre quella grande spinta, quel gran senso di speranza che l'arcivescovo riesce a trasmettere a noi amministratori. Amministratori nei quali l'arcivescovo crede molto, quindi ha sempre parole di conforto per noi, comprende le nostre situazioni, i nostri pesi. E oggi ha fatto un bellissimo discorso, un bellissimo discorso su un amministratore ricordando che siamo comunque degli uomini con le nostre vite, le nostre famiglie, le nostre difficoltà, le nostre preoccupazioni e quindi di riuscire anche noi a prenderci degli spazi nostri nei quali magari anche rigenerarci mentalmente per poi meglio affrontare le problematiche degli altri e riuscire quindi ad andare incontro alle loro esigenze. Ogni professione richiede un minimo di serenità, soprattutto quando si hanno gravi responsabilità, questo vale per il medico, vale per l'insegnante, vale per il sindaco e soprattutto chi ha responsabilità con gli altri in un certo qual modo deve aver cura di star bene per poter far del bene. È stato il tema del disagio giovanile, legato anche ad alcuni drammatici episodi degli ultimi tempi, ad aver collegato tutte le lettere dei sindaci. Tante domande dalle risposte difficili su come aiutare i ragazzi ad affrontare le difficoltà, a far riscoprire la bellezza della vita, a provare a renderli protagonisti nella stessa amministrazione della città. Un tema, quest'ultimo, su cui si è soffermato a lungo Delpini, suggerendo anche l'ipotesi della creazione di un'amministrazione giovane con una propria, reale voce in capitolo nel governo locale della città. Dei giovani che si interessino e si curino dei loro coetanei per costruire un paese in cui sia desiderabile abitare mi sembra una strada doverosa. A tre anni di distanza dalle strazianti scene degli ospedali in crisi, delle bare portate dai camion dell'esercito e dei tanti morti che segnavano i bollettini quotidiani, il Covid sembra ormai sparito dalla nostra vita quotidiana. Rimane però intatto ancora oggi il ricordo di quei mesi difficili e delle tante vittime della pandemia. È a quest'ultime che il comune di Brugherio ha dedicato un monumento nei pressi del cimitero di Via San Francesco, inaugurato finalmente lo scorso weekend in occasione della giornata nazionale di ricordo delle vittime del Covid, in un momento solenne ma sobrio, nel rispetto di chi ha sofferto profondamente. Una targa e una colonna spezzata a ricordare le vittime, 258 ufficiali nella sola Brugherio, anche se i numeri reali sono sicuramente più alti. A pochi metri di distanza sono stati piantati degli ulivi, donati dall'Unione Nazionale dei Cavalieri d'Italia, che formeranno un piccolo bosco della memoria, in dialogo con il monumento stesso. Questo monumento fa compagnia alla nostra città da qualche mese, ma oggi era il giorno giusto per inaugurarlo e per fare quei tre passaggi che abbiamo fatto insieme alle persone che hanno partecipato. Quindi un ricordo doveroso delle vittime, le vittime di quella prima fase, le vittime della fase successiva purtroppo, di tutto quello che il Covid ha lasciato, un ricordo di tutte le persone, una memoria grata a tutte le persone che si sono impegnate nei confronti degli altri. E poi abbiamo parlato di un monito, perché questa vicenda della storia non sia solo una vicenda della storia, ma ci dica qualcosa anche sui nostri comportamenti, sul nostro modo di vivere e di stare nel mondo e con gli altri. Palazzo Arese e Borromeo, come polo convegnistico, aggregativo e di promozione culturale, grazie alla rinnovata partnership tra il Comune di Cesano Maderno e l'Università Vita Salute San Raffaele, l'amministrazione comunale e l'Ateneo milanese stanno gettando le basi di un futuro che integra le competenze e la progettualità culturale dell'Università e il prestigio della straordinaria realtà storica e artistica del Palazzo. Un futuro che è già realtà e che si traduce in un programma di eventi, convegni, seminari, giornate di studio aperti a tutta la città. Sono circa una cinquantina i convegni già previsti fino al prossimo autunno, con una partecipazione stimata di oltre 1500 persone, conferenze di elevato livello scientifico e tuttavia in grado di attrarre anche una platea di non specialisti. Si tratta di aver proseguito un percorso che era già in corso, abbiamo semplicemente rimodulato il progetto di presenza del San Raffaele all'interno del Palazzo Borromeo, sarà più improntato a un taglio congressuale e convegnistico dedicato alle tre facoltà che sono presenti all'interno del percorso di studi a San Raffaele, medicina, psicologia e filosofia. La particolarità però che ci tengo a sottolineare è che molti di questi appuntamenti, a parti più tecnici, saranno proprio aperti anche alla cittadinanza, non solo cesanese ma di un territorio. Questo per rappresentare ancora una volta quanto sia importante, strategico e soprattutto utile per un territorio avere una presenza come quella di un'università all'interno di un contesto così particolare come quello del Palazzo Borromeo che si afferma ancora una volta come uno dei più importanti polo formativi dell'Abrianza. E questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento. Grazie a tutti.